Con il professionismo il risultato diventa decisivo, invece negli amatori, così comunque nella partenza del calcio è tutto più un gioco, diventa più un divertimento. Ritieni che gli amatori o i dilettanti di oggi vogliono un po' scimmiottare troppo i professionisti? Cerca sempre di assomigliare a qualche giocatore per riuscire anche magari a fare una migliore prestazione, molte volte succedeva anche quando eri più piccolo che ti cercavi di assomigliare a uno o all'altro per giocare meglio, però adesso sono meno giocatori bravi quindi magari anche a livello direttantistico c'è meno gente che trova similitudini con giocatori. Qual è la molla che spinge un calciatore amatore come puoi essere tu a giocare talvolta ad orari improbabili? Proprio la passione perché il fatto che a uno gli piace giocare al pallone o ce l'ha o non ce l'ha, quindi quando parti e hai questa voglia di giocare giocheresti a tutte le età e sin quando puoi, quando non ce la fai più è un dolore.